E' Anna Peretti, pedale scaligero, Veneto. Seconda posizione per Martina Carrani, familiato ciclismo a Toscana. Eccola qui, Anna Peretti, pedale scaligero, ormai sicura della vittoria. Facciamole sentire un applauso forte del pubblico di Borgo. Vince Anna Peretti, pedale scaligero. Lezione, gruppo in rimonta. In ogni caso la seconda posizione di Martina Carrani, insominiato ciclismo a poco più dietro è arrivato il gruppo. Vince Anna Peretti, pedale scaligero, Veneto.